in diretta dal festival di sanremo qui con noi c'è ron ciao 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 come va bene grazie tu piuttosto bloccata io stai dicendo tu piuttosto come va ti ho visto ieri alle prove con due canzoni davvero bellissime sono molto contento se tu dovessi scegliere una delle due se dovessi essere tu a votare anziché il pubblico da casa e la giuria io sono sono molto legato a un abbraccio unico ecco perché è una canzone molto intensa forse è la canzone un pochino più vicina a me ma devo dire che poi ho portato anche sing in the rain che ha invece è totalmente diversa per cui ha un altro fascino ancora secondo me insomma per cui vada vada come vada insomma non siamo noi a decidere purtroppo io ho visto che la prima volta che sei stato al festival di sanremo avevi 16 anni e ti sei esibito con nada allora da quanto tempo mancavi dal festival e perché la scelta di tornare proprio quest'anno ron ma dunque sono venuto l'ultima volta nel 2006 ed era l'anno di panariello e poi ho deciso di presentarmi quest'anno perché l'anno scorso ho visto il sanremo di fazio e devo dire che è stata una delle poche volte in cui non mi sono annoiato mai ho visto un sanremo leggero un sanremo però molto vicino alla musica infatti pazio si circonda di grandi persone che fanno musica e questo per uno che fa la musica e ha ancora voglia di farla è importantissimo ecco perché saremo il sanremo di fazio e lui ad averti convinto diciamo di convinto a tornare no non mi ha convinto lui devo dire io mi sono presentato come tutti ecco poi è stata fatta una scelta e fortunatamente sono 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 fra i 14 come è cambiata l'atmosfera sanremo rispetto al passato tu che ne sei stato sempre un grande protagonista beh insomma io hai parlato del sanremo del 70 avevo 16 anni per cui è un bimbo e allora il sanremo era intanto non era all'ariston ma ma al salone delle feste del casino no per cui era un'altra cosa erano tutti impettiti c'era tutta una serietà eccetera io ero un ragazzino che veniva da garlasco in provincia di pavia andavo a scuola per cui mi sono trovato dopo un mese catapultato sul palco di sanremo e questo e questo ha fatto sì anche che cantarsi con un'incoscienza totale e questa è stata la forza perché quando rivedo quelle immagini in bianco e nero dico caspita questo che forza che aveva dicevo e per cui e quello è stato un sanremo molto particolare e bello secondo me poi devo dire che bello è stato è stato quando abbiamo vinto con tosca insomma è stato bello ma non solo per la vittoria perché poi avere a che fare con un artista come tosca non è solamente avere in fianco una grande cantante avere in fianco un'amica una persona che mi ha capito perfettamente ha capito la canzone ha capito anche la leggerezza con cui dovevamo comunicarla e questo ci ha ci ha dato ci ha dato poi il risultato a proposito di amici poco dopo la tua prima esibizione al festival di sanremo è iniziato anche a collaborare col grande lucio dalla esatto porti qualcosa di lui qui porto porto una canzone il venerdì il venerdì che si cantano i cantautori ecco sanremo ha deciso di 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 mi ha chiesto di cantare lucio e io sono sono onorato insomma perché insomma è un grandissimo e poi quella canzone cara insomma che canterò è una canzone che io ho vissuto da vicino molto da vicino perché io ho suonato in quel disco su una chitarra pianoforte lui faceva prima le musiche facevano le basi e lucio intanto stava in un angolo a finire i testi e mi ricordo che ci ha messo un bel po insomma a finire il testo di quella canzone perché è una canzone di che ha una forza ha un'intimità pazzesca e ogni tanto mi chiamai e dice cosa dici questa frase ecco per cui averla vissuta da vicino e mi 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 dà un'emozione forte ecco essere qui con lui che non c'è in questo momento che lui c'è sempre qua e romperà i coglioni anche qua e però ecco l'idea l'idea di di cantarla è una grande emozione ecco spero di essere all'altezza siamo certi che lo sarai ron che cosa ti aspetti da questo festival di sanremo 2014 infine mi aspetto che la musica vada avanti mi aspetto che la musica vada avanti con più coraggio con più speranza ne abbiamo bisogno tutti perché insomma il nostro è un paese un po depresso in questo momento giustamente però ecco spero che che la musica risalga anche lei insomma oltre oltre al lavoro per tutti insomma risalga veramente perché ne ha bisogno ecco si viviamo un momento in cui è difficile anche far sapere che una tua cosa per cui sanremo sta diventando ormai l'unica grande vera occasione per cui abbiamo dobbiamo avere grande fiducia in bocca al lupo crepi il lupo a voi di radio bruno ciao